Tu mi fate una cosa? Mi continuate a fare questa cosa e tu fai le presentazioni della band, come si fa i concerti? Si! Allora, ti senti a me! Dai! L'ho chiamata! L'ho chiamata! Adesso mi vedrete piangere probabilmente. Canterà Paolo Ceccarelli. Un microfono di legno. Un microfono di legno. Un microfono di legno. C'ho una cosa qua. E' anche un po' pornografica questa. Grazie. 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 Paolo Ceccarelli al piano. Simone Rinaldi alla chitarra. Fabrizio Malavasi al basso. Marco Polletta al caillon. E la star? Vedi Vittoria. Grazie. Grazie per l'avecci fatto. Grazie per l'avecci fatto venire. Grazie. Grazie.